su nick andremo a realizzare un look lucido elegante e slick con l'utilizzo di gloss me strongly 416 che ha una tenuta 4 su 6 con l'aiuto di una spazzola piatta e del phon vado a creare una riga e appiattisco lateralmente per creare il look slick 416 è una cera fibrosa a lunga tenuta prendo una noce di prodotto e la distribuisco sulle mani dopodiché vado ad applicarla su tutta la testa maggiore 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 e con l'aiuto di un pettine vado a ridefinire la mia riga e voilà se invece volessi ottenere un effetto opaco e spettinato andrei a utilizzare Matt Me Strongly 515 che è una paste a tenuta 5 su 6 in questo caso vado ad asciugare i capelli in maniera super naturale con le mani per ottenere l'effetto opaco prendo una piccola quantità di pasta la distribuisco uniformemente sulle mani e dopodiché vado ad applicarla su tutta la lunghezza dei capelli opaco e contenuta